Per i prossimi quattro anni rivestire ancora una volta la carica di segretario generale confederale CGL di Caltanissetta, Rosanna Moncada, eletta all'unanimità in presenza del segretario nazionale CGL Walter Schiavella e del segretario generale CGL Sicilia Alfio Mannino. Una riconferma che arriva al culmine della fase congressuale della provincia di Caltanissetta, che ha avuto inizio ai primi di dicembre e si è conclusa proprio ieri, 16 gennaio, con l'elezione del segretario generale provinciale. Nel corso di queste settimane sono stati definiti anche gli incarichi delle varie categorie della CGL. Eletti infatti i segretari provinciali Nunzio Corallo per la Filcams, Rosario Catalano Filctem, Francesco Cosca Fillea, segretario Filt e FIOM Orazio Gauci, Fisac Michele Lombardo, Fly Giuseppe Randazzo, FLC Diego Stagno, FP Angelo Polizzi, SLC Gianluca Polizzi, SP Paolo Anzaldi. Per molti segretari si tratta di una riconferma del mandato. Il congresso è sempre una grande emozione per tutti i delegati, per tutti i lavoratori, per tutti i dirigenti sindacali, perché significa guardarsi dentro casa, parlare con i lavoratori e capire cosa si deve fare per il territorio, per il mondo del lavoro. La mia rielezione è stata un momento di grande commozione e anche di grande soddisfazione perché ha significato la fiducia da parte dei centri regolatori regionali e nazionali e anche quella da parte di tutti i delegati, di tutte le delegate della provincia. Abbiamo bisogno di intervenire in maniera concreta, spingere la politica, il governo per avere un'azione sindacale forte e provocare anche, coinvolgere tutte le forze sociali, il mondo dell'associazionismo, l'unità sindacale con Cisle Wille, perché bisogna veramente cambiare rotta e intervenire effettivamente sul mondo del lavoro. E quando parlo del mondo del lavoro ne parlo anche nella sua condizione sociale, quindi salità, salute, sicurezza, formazione, scuola e poi soprattutto il tema della pace che è stato centrale nelle nostre iniziative, nei nostri congressi, perché senza pace non possiamo pensare al mondo del lavoro, al mondo di diritti e di libertà.